Allora, siamo al voto disciplina dopo questa partita un po' camponesca, perché poi dà il vantaggio e il svantaggio, è stata una bella partita. Da chi cominciamo? Bravi ragazzi, veramente. Molto bravi, corrono parecchio. Il comportamento? Yes, yes. Maschio, ma ci sta, ci sta. Va bene. Bene, quindi vi sono piaciuti come si sono comportati. Bene, allora, Abdullaye, gli diamo un 2 per il comportamento. Ci sta, ci sta. Lui sono bravi tanto, ha scegato bene, con calma. Io gli do 10 anni più. Anche più di 10, si sono comportati bene. Sì, bene. Sono più grandi di noi. Quanto anni? Senti, avete vinto la partita ma vi hanno dato 10. È significativo questo? Sì, sì, certo, certo. Ci fa piacere, prendi, lo rizzazzo. Bene. Bravi ragazzi, grazie. Se no, mi fanno tutti 17 anni. No, no, non lo so. Alla prossima.